Signor Sonic, innanzitutto benvenuto. Ciao! Come va, tutto a posto? Sì, tu? Tutto bene. Allora... Guarda che bello che sono, mi sono messo in attenzione solo per te. Tu non hai idea di quanto io sto tutto a Natale, ma te non hai proprio idea. Mi hai riportato un bug che c'è da circa una settimana e ho cercato su YouTube in giro, ma ho trovato praticamente nessuna notizia e quindi ho deciso di portarti direttamente a parlare di questa cosa che mi hai riportato, che è abbastanza grave. Mi è apparsa una donna, ma che cosa vuoi, donna? C'ha pure lei il coso come mi... Ce l'ho pure io! Ce l'ho pure io il coso! No, bro, io sto usando il Marcus Client, non vedo. Che schifo! E che quindi volevo... Nessuno ne parla e ho detto, ok, allora facciamolo noi. Sei pronto? Sì, 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 sì. Ok, dai. Iniziamo dall'inizio. Questo bug riguarda i nomi su Minecraft e può sembrare qualcosa da poco, ma per un gioco che ha dedicato tutto un suo aggiornamento alla moderazione della chat, addirittura andando a creare una rivoluzione contro il gioco, mandando in trend l'hashtag SaveMinecraft, mandando in trend l'hashtag SaveMinecraft contro le decisioni della Mojang, se tu mi fai un bug per quello che stiamo per dirvi riguardante i nomi, diciamo che stai completamente sbagliando quello che stiamo facendo. Ed è un peccato che esce questo video il giorno dopo dei regali che stanno facendo la Mojang, però diciamo che si sono anche regalati un bel bug, bello tosto da dover fixare. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Cos'è che fanno questi nomi? Signor Sonic, prego. Tutto è cominciato una settimana fa. Io ero letteralmente al cinema e mi stavo facendo gli affari miei. Esco dal cinema, guardo una chat di un gruppo di cui faccio parte, perché io da qualche tempo ho degli account con dei nickname rari, quindi faccio parte di determinati gruppi di Discord. Ah, sei tipo uno di quei là che snipera i nomi per prendere i nomi più belli. Tra poco si libera il nome Sirio, se me lo riesci a prendere te lo compro. Sirio? Sì. Ma come? Ci hanno già rotto il letto! Eh bro, è normale, è normale. Niente, esco dal cinema e vedo che uno di Discord in cui faccio parte è tutto impazzito. Dico, raga ma che succede? Un brother mi dice, tutti i nomi bloccati sono diventati disponibili. Ma cosa stai dicendo? Mi fa, sono riuscito a prendere Kaskun, che è un nome di un Pokémon che era stato bannato da tutta la vita. Pir? Perché sostanzialmente c'era una parola che non era accettata, cioè KUN, che penso significhi qualcosa in inglese, una parolaccia comunque. Quindi già capisci dove andremo a parare. Quindi, niente, questo fra mi dice, ho visto che ci sono questi nickname liberi e se ne ha accorto semplicemente perché, godo, perché ha visto che uno appunto di questi nickname era stato utilizzato, cioè proprio preso, diciamo sniperato su NameMC. E appunto, come stai dicendo stesso te, i nomi bloccati, diciamo che non sono parole proprio molto belle, ma vengono bloccati i siti, cioè nomi di siti un po' meh, proprio insulti e tutte cose del genere. E se tu mi fai tutto un aggiornamento chiamato chat update, dove appunto ti concentri proprio sulla moderazione, l'ultima cosa che tu ti aspetti è che proprio loro bagghino la moderazione e che quindi vanno poi dopo a rovinare tutto. Insomma, sostanzialmente in realtà in principio è partito come qualcosa di abbastanza tranquillo, cioè si sono sbloccati i nomi bannati, che dici va bene, però alcuni nomi erano semplicemente parole a caso, tipo grillo in inglese era bannato, non si sa precisamente per quale motivo. Grillo in inglese, ok, ebbè finché sono sti nomi uno può pure dire. Tipo nomi che erano rinomati per essere bannati per nessun motivo, tipo Grasshopper, che appunto è grillo, tipo Animate, che non si sa per quale motivo era sempre stato bloccato, oppure Supervision, parole proprio casuali. Infatti, non capisco. Supervision in realtà è già un caso a parte perché conteneva la parola perv, quindi capisci che anche lì. E vabbè, uno quindi se si chiama Perspective. E in realtà ti ho anche allegato una lista di questi nomi che erano bannati, che adesso sono stati sniperati. E ma quindi ora che sono stati sbloccati e li hanno presi questi nomi, no? Ora, questi nomi, se un giorno verranno diciamo di nuovo, cioè verranno di nuovo bloccati o rimarranno sbloccati per sempre? Perché altrimenti vuol dire che gelano questi account Minecraft e quindi sarebbe potenzialmente anche una mezza truffa, no? Allora, in realtà so risponderti con precisione perché è già successo in passato che alcuni account venissero appunto refreshati, fra virgolette, perché avevano appunto questi nomi che non erano permessi. Però ad oggi, e forse questa è la parte più preoccupante, è ancora tutto tranquillo, si può ancora tutto fare ed è molto molto sbagliata come cosa. Quindi niente, sostanzialmente... Secondo te però come reagiranno? Bloccheranno tutti questi account nonostante sia stato un loro errore oppure... Allora, bloccarli no. La cosa che potrebbero fare al massimo è tipo resettare i nickname mettendo dei nickname stupidi tipo user, numeri, numeri. Ed è già capitato. Ok, però siccome magari qualcuno non sta capendo di che tipo di account stiamo parlando, che ne dici di fare l'esempio magari del tuo di account oppure decidi tu di che account dire? Sì, partiamo con ordine perché... Tu leggi direttamente i nomi e poi dopo li metti in sovrimpressione e censuro il nome che tu dici, non ti preoccupare. Va via via peggiorando in realtà perché... Ah, li hai preparati in escalation? Sì, sì, sì. Va bene, fammi divertire. In realtà c'è una specie di teoria o supposizione del come mai questi account siano stati sbloccati. Quindi ti dicevo, account normali fra virgolette come appunto questi qui, slant, proprio parole senza senso di cui ti manderò poi la lista. E quindi la supposizione è che a quanto si può vedere sul sito della Mojang, appunto qualche giorno fa, cioè lo screenshot è vecchio quindi non è esattamente la data precisa, però qualche giorno prima che succedesse tutto questo casino qualcuno aveva riportato un bug che non gli permetteva di utilizzare determinati sillabe più che parole negli account di Minecraft. Quindi si suppone che da qui poi si sia... Quindi per fixare un bug hanno rotto tutto? Esatto. Momento Mojang. Esatto, cioè in questo periodo veramente si sta tirando la zappa sui piedi. Massimo non ne fanno una giusta. Ridicola. Hai presente tipo il meme woman? Dovrebbero fare lo stesso meme però con Mojang. Te lo giuro, è assurdo. Però in fondo io un po' li voglio bene perché, cioè, non lo fanno con cattivere. Si impegnano loro però nulla, non c'è niente da fare. Questi gustosi nickname. Vai vai dici. Allora, cominciamo con nickname abbastanza tranquillo, nude girl. E beh, che in realtà ha già la parola nudo dentro. Esatto. Quindi potenzialmente. Cosa che ci siamo dimenticati di dire è che questo filtro, per certe parole, era completamente irraggirabile. Per esempio, un nome che era bannato è cockrill, che vuol dire gallo in inglese. Che contiene cock, chiaramente, che non è una parola normale, diciamo. È una parola... Però quello lì sì, però grillo no. Esatto. Va bene. Quindi, per aggirare questo bug, perché probabilmente si tratta di un bug delle sillabe più che delle parole, si è scoperto che se tu smanettavi un po' con la capitalizzazione delle lettere, quindi maiuscolo, minuscolo, minuscolo, maiuscolo, potevi raggirare ulteriormente questo filtro. Per questo motivo, questo, come molti account, hanno una capitalizzazione molto particolare, tipo nude girl, adesso si vedrà dallo screen, che è tutto capitalizzato strano. Allo stesso modo... Però funziona, comunque. Sì, sì, tutto tranquillamente. Se tu riesci a trovare la giusta combinazione di maiuscole e minuscole, misticamente non si sa proprio per quale motivo te lo accetta, mentre con altre combinazioni no. E questa roba è proprio assurda. E quindi da qui in poi il via libera. Verso tutti i tipi di nomi. E via, via, peggiorando. Quindi io in ordine ti ho messo nude girl. Poi cosa c'è dopo? Che ancora, ancora, dici. Ah, beh. Successivamente you f*** us. Ma, ok. Penso che non serve la traduzione. Poi ho uno screenshot dove ci sono due persone con due nickname bannabili, vale a dire S***** e My D***** il mio c***** succhiato. Va bene, ok. Poi Big Bat. Va bene. E qui c'ho una schiera di nomi che ti giuro se tu lo vedessi impazziresti. S***** offender. B*****ing. S***** my D*****. Bat plug. Puta m*****. Eat my D*****. Tutti così a raffiga. Brother, tipo messi in schiera come dei militari. Però non siamo arrivati al peggio, attenzione. Scusami, scusami. Allora, questo in realtà è una chicca, è un piccolo aneddoto. Non so se lo conosci, probabilmente visto che ti interessano queste storie potresti essere una conoscenza, ma tipo sette anni fa un utente era riuscito a chiamarsi Mojang S*****. No, non lo sapevo. E la Mojang, per farci un meme, fra virgolette, invece di refresciargli l'account, come dicevamo prima cambiandoglielo con un nome stupido, tipo user, numeri a caso, gli ha rinominato l'account in No We Don't. Ah, ma? E se tu cerchi su NameMC c'è ancora la storia. Ma? Però chiaramente il nickname da quel momento in poi non è più stato utilizzabile. Eh, lo hanno ripreso? Esattamente. No! Adesso, se vuoi continuo dopo. No, no era per la storia, però aspetta, sì, aspetta che... che appunto vado. Penso di aver fatto il no più sincronizzato della storia, che valeva sia per la partita... Ma dici che c'è ancora... quanto hai di tempo di rec? Ma penso che un'altra decina di minuti stiamo a posto, siamo a 12 minuti. Ok, ottimo. Dunque, prima che perdessimo, cioè vincessimo come dei campioni in una situazione bruttissima, eravamo arrivati a dire che appunto per questo bug anche nickname storici, fra virgolette, bardo io, eh, come Mojang Sucks Dicks, sono ritornati disponibili. E quindi li hanno di nuovo memati ora con quel nome che avevano bloccato? Sì, esatto. Ma non ci credo. Sfruttando questo bug della capitalizzazione, infatti è tutto capitalizzato strano. Quindi praticamente, in parole povere, per fare questo bug basta mettere a caso maiuscole e minuscole di quello che vuoi dire. Che dovrebbe essere bloccato, ma in questo modo in realtà si sblocca. Quindi, per esempio, io se faccio tipo scritto ciao in questo modo, tipo così, se fosse bloccato me lo sbloccherebbe. Esatto. Basta trovare la giusta combinazione e puoi scrivere letteralmente. È una cosa talmente stupida che mi viene... Cioè, come hanno fatto a pensarci di provare, per quanto sia stupida. Però va bene. Certo che comunque quelli là di Minecraft, diciamo che si divertono, eh, cioè... A prendere sti nomi, devi essere un momento un po'... Va bene. Questi sono i peggiori, te lo giuro. Cioè, sta roba è proprio probabilmente la cosa che più in assoluto ha, secondo me, turbato, diciamo, l'ordine. Vale a dire, c'è stato un momento in cui si è scoperto che se tu mettevi come nome qualsiasi parola preceduta da... The n***a, i n***a, potevi mettere tutto, tutto. Cioè, metterlo prima o alla fine? Alla fine. E dopo potevi mettere qualsiasi cosa. Per questo motivo esistono... Come è possibile che è stata scoperta sta cosa, però? Ma, cioè, sono dei malati pure quelli che l'hanno scoperta, però, eh. Per questo motivo ci sono i nickname che ho lasciato per ultimi, cioè i peggiori, vale a dire. Quelli, appunto, razzisti, per esempio, lost my n***a, kill all the n***a, hang the n***a, che vuol dire letteralmente in picca i parola che non si può dire. Sono riuscito a... A partecipare al... Hai partecipato anche tu al trend. Pov, le bambine che fanno i balletti su TikTok, oppure prendere dei nomi razzisti su Minecraft. Eh, devo dire che c'è un po' di differenza tra le due challenge. Però sappiamo farci riconoscere, a modo nostro, bravi giocatori di Minecraft. È passato una settimana e, invece di un bug, ne sono riusciti a trovare due, per una cosa del genere. Per una cosa dei nomi. Minecraft esiste da 12 anni. E se tu, dopo 12 anni, fai ancora errori del genere sul tuo gioco, hai seriamente dei problemi. Ma questo bug è soltanto su Minecraft Java o anche su Minecraft Bedrock? Ovviamente solo su Minecraft Java, perché il sistema di nickname di Bedrock è completamente un altro. Cioè, Bedrock si appoggia su i gamer tag dell'Xbox, che per fortuna... Ora, sarò complottista, però mi viene un po'... Cioè, strano che questi bug del genere capitano soltanto su Minecraft Java. Perché, non so se lo sai, ma tipo una settimana fa ho fatto un video dove parlo del fatto che, molto probabilmente, negli anni Minecraft Java verrà sempre di più lasciato indietro a quando non lo elimineranno del tutto per continuare soltanto Minecraft Bedrock. E stanno continuando ad accadere soltanto cose del genere. Vedi le collaborazioni che fa Minecraft Bedrock e che Java non ha mai fatto. Vedi il fatto che, per esempio, ora per Natale hanno fatto un calendario dell'avvento su Minecraft Bedrock. Regalano anche 5 mappe, tutte custom, e invece per Minecraft Java t'attacchi. E in più ora anche questa cosa. Diciamo che tutte queste cose insieme stanno un pochetto confermando il fatto quanto sia trascurato Minecraft Java. Quindi mo, per non si sa quanto tempo bisogna vedere, quando poi lo risolveranno, se appunto questi nomi verranno cancellati o meno, ci dobbiamo beccare anche i nomi razzisti su Minecraft. Che non è, secondo me, per niente una roba bella che un gioco possa mantarsi di avere. È assurdo che, più che altro, stia succedendo tutto concentrato. Sì, 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 ne stanno accadendo una dopo l'altra, è una raffica. Sta passando, penso, uno dei periodi peggiori della proprio esistenza, la Mojang. È da circa, diciamo, luglio, dopo la migrazione, che all'inizio erano tutti contenti del mantello. Poi hanno unito Minecraft Java e Bedrock, quindi erano di nuovo contenti tutte le persone del mantello gratis. Ma da lì in poi c'è stato, non lo so, l'inizio della fine. È da, appunto, quindi metà luglio, ora che siamo a dicembre, quindi meno di quattro mesi, o giù di lì, che ne stanno accadendo una dietro l'altra, che non lo so, se io fossi uno della Mojang mi licenzierei, piuttosto che prendermi altri insulti, per quanto le stanno facendo. Su del cosa faranno a questi account, che probabilmente, ed è bruttissimo come roba, se ci pensi, perché loro sostanzialmente stanno permettendo tutto ciò a... È sopra la base nostra? È sopra la base nostra, il tizio. Quindi, per molti, e io mi auguro di no, questi account verranno semplicemente abbandonati a loro stessi, perché in realtà, se tu ci pensi, non ci puoi fare niente, cioè, se tu entri su qualsiasi server, chiaramente vieni instabannato, quindi, non lo so, è un po'... Ma nel senso di venire bloccato il proprio account, significa che ti obbligano a cambiare il nome, o che tu il tuo account Minecraft lo perdi? No, no, te lo cambiano e basta, lo decidono loro. Ah, decidono loro, ti mettono loro un altro nome a caso. Esatto, sì, sì, è già successo, succede proprio questo. Mentre che mi abbraccio, signor Sonic, grazie mille della compagnia di averci raccontato questa storia. Come ti ho detto, non ho trovato altre informazioni in giro, quindi grazie mille per averci detto tu tutte queste informazioni. Non avrei mai saputo notizie da gente che sniper a nome o cose del genere, quindi grazie mille. Prego, iscrivetevi al mio canale. Grazie mille. Grazie a tutti.